Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo chi è la figlia segreta del principe William d'Inghilterra. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Nell'ultimo periodo, si sono diffuse voci su una presunta figlia segreta del principe William, nata dalla relazione con la marchesa Rosanbury, ex modella e attuale moglie del marchese di Colmondelei. Queste speculazioni emergono in un periodo di intensi gossip, alimentati anche da una foto ritoccata di Kate Middleton e dei figli, dove la principessa non aveva più al dito la fede nuziale. La duchessa di Cambridge, Kate, si sarebbe allontanata dalla vita pubblica non solo per motivi di salute, ma anche a causa dei presunti tradimenti del marito. La notizia della figlia segreta tra William e Rosanbury aggiunge mistero e alimenta le teorie del complotto che circondano la famiglia reale. Non ci sono stati commenti ufficiali da parte del principe William riguardo alla foto manipolata di sua moglie, seguendo la prassi della famiglia reale di non rispondere a tali speculazioni. L'assenza di Kate dai riflettori, seguita all'operazione alla dome, e le successive modifiche alla sua immagine fotografica hanno intensificato le congetture. Il silenzio della famiglia reale su queste questioni lascia spazio a interpretazioni e teorie del complotto da parte dei fan e dei media. La relazione tra William e Rosanbury, se confermata, potrebbe avere implicazioni significative per la reputazione della famiglia reale e per il matrimonio di William e Kate. La presenza di una figlia segreta sarebbe un elemento di grande rilevanza nella narrazione dei media riguardo alla vita privata dei reali britannici. La situazione attuale solleva interrogativi sulla gestione della privacy e dell'immagine pubblica da parte della famiglia reale, in un'epoca in cui i social media e i tabloid possono amplificare rapidamente voci e speculazioni. E tu cosa ne pensi di queste voci sulla presunta figlia segreta di William? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie